Liceo sgombrato, ma non per fine dell'occupazione studentesca. Solo tanta paura e fortunatamente niente di grave nella notte all'industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, dove una lastra di marmo è crollata dal soffitto, stiorando un gruppo di ragazzi nel bel mezzo dell'occupazione scolastica. Intorno alle 22.30 il tonfo fragoroso della lastra, dopo il quale è stato immediatamente avvisato il vicepreside Giuseppe Castro Giovanni, che ha poi a sua volta richiesto ai vigili del fuoco la rimozione per motivi di sicurezza di tutte le altre lastre vicine e pericolanti. Ignoti i motivi del cedimento, bisognerà infatti accertare se sia stato causato dagli stessi studenti o si sia trattato di una infiltrazione che avrebbe intaccato le lastre e la loro stabilità. Fatto sta che le condizioni dell'ITI Vittorio Emanuele di Via Duca della Verdura nel centro di Palermo non possono certo dirsi soddisfacenti. Anche per questo motivo da settimane gli studenti hanno occupato stabilmente il plesso. Una occupazione atipica, rispettosa nei confronti degli studenti del quinto anno, ai quali, secondo la vicepresidenza, viene permesso il regolare svolgimento delle lezioni. Rapporti sereni anche fra gli studenti e i vigili del fuoco e la Digos accorsi in mattinata per stabilire se ci fossero o meno pericoli per i ragazzi. Per precauzione li stiamo togliendo tutte, perché ne è caduta una però, per precauzione non si sa in quale stato erano le altre lastre e attualmente li stanno dismettendo. I ragazzi ci stanno consentendo, diciamo tra virgolette, anche lo svolgimento di un concorso a cattedra che c'è all'interno della scuola, l'attività del serale e l'attività delle quinte classi perché devono sostenere gli esami di stato a fine anno. E consentono anche agli allievi che vogliono partecipare all'attività culturale, attività di recupero, di partecipare o di eventualmente fare eventuali lezioni. Abbiamo una palestra abbastanza grande che sono saltate alcune volterranee del soffitto e attualmente siamo in corso di manutenzione. Abbiamo un impianto di climatizzazione che deve essere completato ma tutto sommato diciamo che la provincia ha investito su questa scuola.